Bene, bene, ciao a tutti, benvenuti, benvenuti a tutti in questo video e vediamo come trovare e mantenere l'amore. Allora, prima di affrontare il tema, metti un like, condividi il video con i tuoi amici, ovviamente seguimi su tutti i miei social e ti ricordo che se vuoi fare una piccola donazione al canale puoi farla, basta gravare questo video e clicchi sul tastino super grazie. Ovviamente invece iscriviti in modo gratuito e se vuoi soffrire degli esclusivi vantaggi e degli abbonamenti basta che vai nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti, selezioni l'abbonamento che preferisci. Ma veniamo al tema, come trovare e mantenere l'amore. Allora, è possibile trovare e mantenere l'amore? Questo è qualcosa che si può fare e noi abbiamo diritto di avere un amore, ma dobbiamo anche sapercelo guadagnare perché l'amore va trovato sedotto, diciamo così, e mantenuto nel tempo se vogliamo mantenerlo. Ovviamente dipende dal nostro obiettivo, infatti la prima cosa da fare è capire quali sono i nostri obiettivi da un punto di vista sentimentale, affettivo. Quindi, questo lo dico sempre, nessun vento è favorevole per il marinario che non sa dove andare, definisci quello che tu vuoi. Ma se nel tuo caso è trovare un amore che possa essere, che possa durare nel tempo, bene, la cosa che dovrai verificare è intanto avere il mindset giusto, l'atteggiamento mentale giusto. Perché se tu hai l'atteggiamento mentale sbagliato, ovviamente non troverai mai l'amore che fa per te. Questo te lo posso garantire, senza atteggiamento mentale giusto. E l'atteggiamento mentale giusto qual deve essere? Beh, quello di considerarti, se sei una donna, ad esempio una donna di valore, e agire nel mondo, pensare e fare come fossi una donna di valore. Indipendentemente da tutto, devi pensare per prima cosa a te stessa o a se stessi. L'amore lo troviamo quando diamo valore a noi stessi, in primis. Quindi, definisci il target delle persone che ti interessano. Perché? Molte persone dicono, ma io lo amo, io lo amo, mi sono innamorata, è sposato, si, mi farei, ci vediamo solo giovedì sera al parcheggio cimitiero. No, non deve esistere questo. Se tu hai definito un target e questa persona deve essere libera, magari deve avere, deve essere, non dico benestante, però deve essere una persona equilibrata, stabile economicamente, con delle caratteristiche di un certo tipo, culturali, eccetera, e tu devi definire le caratteristiche. Non è che devi adattare le tue esigenze alle persone che trovi. Cioè, è come dire, trovi il catramista, ti adatti, dici, mi vanno bene i catramisti. Cercavo giusto il catramista, perché spesso noi facciamo così. Adattiamo quello che troviamo, trovi il narcisista, va bene, è la persona che volevi. Trovi quello sposato, è la persona che volevi. Allora, non è, non ha senso, no? Stare lì a perdere tempo con situazioni che non ti vanno bene. Non ha nessun senso. Devi trovare la persona, trovarla vuol dire prima sapere che cosa vuoi, e scartare tutti quelli che sono, che non vanno bene. Se tu lo vuoi di un certo modo, deve essere in quel modo lì. Più o meno, ovviamente, non sto dicendo dell'aspetto fisico, che è l'aspetto in cui, diciamo, normalmente non ci sono delle cose che non si capiscono, no? Perché fisicamente, vedi subito se ti piace o meno. Ma, al di là dell'aspetto fisico e dell'aspetto, diciamo, sociale, cioè, come dire, se tu le vuoi libere, deve essere libero, no? Non uno che ti dice, ah sì, ma mia moglie le lascerò prima o poi, non ti preoccupare. Quelli devi scartarli. E poi devi evitare, diciamo, di manifestarti troppo disponibile. Quindi, una volta che tu hai definito il target, devi frequentare gli ambienti dove è possibile trovare quel tipo di target, di persona. Se li vuoi alti due metri, dovrai andare, per fare un esempio, frequentare le squadre di Palacanesto, ma butto lì un esempio a caso. Se li vuoi una persona che abbia una certa cultura, eh, non andrai da ciccio giro pizza 5 euro, ma andrai in circoli culturali. Insomma, devi frequentare l'ambiente, devi fare proprio una ricerca analitica. Vai a ricercare analiticamente dove puoi trovare le persone, dove, qual è l'habitat naturale di queste persone. Come con gli animali, uguale. Se tu vai alla ricerca, come dire, vuoi pescare le trotte, andrai nei fiumi dove ci sono le trotte. Non andrai nel mare dove trotte non ce ne sono, perché trotte non le troverai mai. È come se vuoi, che ne so, l'orata, non andrai a trovare nel fiume, no? Quindi bisogna andare a frequentare l'habitat di quelle persone. Ovviamente presentandoti come la miglior versione di te stessa. Per trovarlo, è solo un fatto statistico, anche le chat online, tutto, devi mettere tu, devi presentarti tu in modo da attirare persone che abbiano quelle caratteristiche. Perché nel parco online ci può essere di tutto, no? Quindi, se vuoi una persona, tra virgolette, che vada e ricerchi, come dire, una situazione, se vai alle ricerche in una situazione stabile, non puoi presentarti nei social in mutande, come dire, reggisent, per dire, no? O in biancheria intima dove esibisci il coscio e tette culo a tutt'andare. A meno che non fai quello di lavoro, come professione, quello è un altro discorso. Però, come dire, altrimenti, come dire, un uomo che va alla ricerca di una compagna di vita, non si va a ricercare, non va a cercarla, che sia un uomo di valore, a ricercarla tra quelle che, come dire, si spogliano nei social, no? Lì va a cercare altre situazioni, no? Questo è un dato di fatto, no? Quello che noi, come noi ci presentiamo, come noi ci poniamo, attraiamo un certo tipo di persone piuttosto che un altro tipo di persone. Dobbiamo mettere l'esca giusta. Quindi dovrai presentarti elegante, sobria, dovrai presentarti femminile, sensuale, seducente, ma non a zoccolata. Se cerchi uomini di classe, di valore, di cultura, benestanti, eccetera, che vogliano comunque una relazione stabile. Poi dovrai assolutamente online, diciamo, fare alcuni check rapidi, no? Quelli che ti mandano subito, come dire, delle richieste esplicite, delle cose, toglti dai piedi. Quelli che invece dal lato opposto chattano e basta, ma non hanno interesse a vederti, perché avranno altre relazioni, lo fanno solo per passare del tempo. Quindi questo devi farlo molto rapidamente. Però ti suggerisco più di frequentare l'ambiente offline, dal vivo, perché è una comunicazione più rapida, più immediata. Una volta che hai trovato questa persona, essendo questo maschio, devi andare a stuzzicarlo, a stuzzicare la sua emotività, fondamentalmente. Fallo parlare, perché più lo fai parlare, più questa persona si aprirà, più si aprirà, più gli erogherai delle tensioni emozionali. Quindi fargli delle domande aperte, no? In modo tale che lui possa parlare. Tra le domande che devi fargli, ad esempio, qual è una cosa bella e una cosa brutta che ti è capitata nella vita? Perché questo gli darà modo di, per il meccanismo degli ancoraggi emozionali, di viversi delle emozioni, di viversi delle tensioni. Andrà a pensare a dei fatti che per lui sono stati emotivamente significativi. Poi, ad esempio, potrai cercare di capire tante altre cose da questa persona, soprattutto ripogni le stesse domande in tempi diversi per capire se è mente o meno. Ad esempio, puoi raccontare un trucco che ti suggerisco e qui, se non chiedi lì, com'è che è finita la tua ultima storia? Per dire, perché le persone comunque parlano, mettiamo che ti racconta che è finita perché, supponiamo, lei ti dice, ah sì, lei mi ha tradito. E allora tu lascia passare del tempo, poi inverti le cose, di, ma come mai avevi tradito la tua ex, tu? Per sapere, perché se lui, diciamo, non si ricorda, si è inventato la cosa e tu gliela rimbutti al contrario, magari ti dice, eh ma sì, ma perché quella era una stronza, perché magari si dimentica, no? Quindi fai delle domande sugli ex, su come sono stati, oppure per capire se è ancora in testa l'ex, perché un'altra cosa importante, se tu cerchi una relazione stabile, non è soltanto un impegnato, ma anche uno che abbia chiuso col passato. Questo è un altro punto fondamentale, no? Perché io scarterei tutti quelli che non hanno ancora chiuso col passato, che hanno ancora in testa l'ex, e allora anche lì fai qualche test, ed è facile, no? Fai qualche domanda tra bocchetto per capire se vede, se sente ancora l'ex, no? Ma subito all'inizio, senza dire così, no? Senza apparire assolutamente gelosa, mai e poi mai appure gelosa. Però fai delle domande, è bello frequentare gli ex talvolta, avere qualche, mantenere delle relazioni con gli ex, io non ho nulla contro questo, dici sta cosa, magari lui ti dice, sì, io ogni tanto la mia ex la sento, allora, paf, inizia ad approfondire un po' il concetto, no? Perché, insomma, è sempre bene poi informarti un po' di chi è, chi non è questa, insomma, se è una storia, diciamo, recente, se è una storia passata, insomma, ci sono tante cose che puoi capire. Ma fondamentalmente per fargli innamorare devi poi somministrare le emozioni, farti vedere come è la persona giusta e mettere dei vincoli, mettere delle condizioni. I vincoli quali sono? Beh, i vincoli sono vincoli emozionali, ad esempio questa persona, se non si pone nel modo giusto nei tuoi confronti, cioè ti, intanto non devi dargliela, perché se le dai subito vai a scadere, quindi devi vedere cosa è disposto a fare per te naturalmente. E cosa naturalmente ti offre, no? Non ponendo delle condizioni, perché magari c'è quello che ti offre chissà che cosa per ottenere subito di voler chiudere una relazione. Se uno vedi che vuole subito andare a sodo, allontanati subito, perché non ha nessun senso stare lì a perdere tempo. Con quelli che vogliono andare subito al sodo, chiudi subito la relazione, non stare a perdere tempo, cioè perlomeno allontanati e vedi come vanno le cose. Se invece vedi che questa persona in qualche modo si manifesta, diciamo, manifesta un interesse nei tuoi confronti, e allora fai investimenti, ti presenta gli amici, ti presenta persone per lui importanti, allora tanto vale portare avanti la relazione. Per mantenere questa relazione ovviamente dovrai sempre utilizzare un po' gli antagonistici, cioè ecco, questa è una cosa fondamentale. In tutto il trend della seduzione, anche nel proseguo della relazione, ci devono essere sempre, ma in forma buona, diciamo, però degli uomini che comunque sono interessati a te. Perché un uomo intanto si ingriffa di più se ha una donna che piace ad altri uomini. E poi la presenza degli antagonisti gli dà sempre quella tensione emotiva che mantiene vivo il rapporto, che lo spinge a fare qualcosa di più per te. Cioè non devi mai dare la certezza al 100% di essere completamente innamorata, completamente persa. Mantenere sempre la tensione, perché questo è un contributo all'alimentazione emotiva. e scandire delle tappe, scandire degli step, per cui ad un certo punto qualcosa deve capitare. Se tu vuoi raggiungere dei risultati a un certo punto, lui deve fare dei passi. Se non fa dei passi, non è che devi dirgli qualcosa, ma devi semplicemente allontanarti. E un'altra cosa fondamentale, non dargli l'esclusiva, cioè non dire questo sarà l'uomo giusto finché non ha fatto tutti i passi giusti, finché non ha preso degli impegni concreti. Tienti sempre tante strade aperte, tante possibilità. E questo è magari dando priorità diverse, però tienti tante possibilità aperte. Fintanto che uno poi non ti dà. Perché l'importante è raggiungere l'obiettivo. Poi se lo raggiungi con tizio, caro Sempronio, cambia poco. Bene, metti un like se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici. E ovviamente seguimi su tutti i miei social e iscriviti gratuitamente al canale. E se vuoi fare una piccola donazione, basta che vai sotto il video, tastino super grazie, e fai una piccola donazione. Anche un caffè è ben accetto! Se invece vuoi offrire degli esclusivi vantaggi e degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti, e selezioni l'abbonamento che preferisci.